La BWC, nota anche come Boots Watch Company, è un marchio svizzero di orologi con una lunga storia alle spalle. Fondata nel 1924 da Arthur Charley a Boots, in Cantonne Châtel, la compagnia ha guadagnato una solida reputazione per la sua produzione di orologi di alta qualità. La BWC si trova in Svizzera vicino al confine francese. La tradizione dell'orologeria in questa regione risale al XVIII secolo, e la BWC ha continuato a portare avanti questa eredità con passione ed esperienza. La compagnia offre una vasta gamma di modelli, dalla classica eleganza degli orologi da polso tradizionali alle funzionalità avanzate degli orologi sportivi. La BWC è anche famosa per la sua collaborazione con altre aziende per creare orologi personalizzati. Questi orologi esclusivi sono spesso prodotti in edizioni limitate e presentano design unici e innovativi. Se stai cercando un orologio di alta qualità che sia affidabile e preciso, la BWC è sicuramente un marchio da considerare. Con la sua lunga storia, la sua passione per l'orologeria e la sua attenzione e i dettagli, la BWC Swiss è una scelta eccellente per chi cerca un orologio che possa durare per molti anni a venire.